Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso sud tra Pian del Voglio e Aglio. Il provvedimento è in vigore fino alle 19 di questa sera. Per la mobilità in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Pistoia e Albivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In Fipili per lavori 3 km di coda verso Firenze, tra Empoli ed Empoli Est, in carregio d'opposta rallentamenti tra Monterupo ed Empoli Est. Per gli stessi lavori l'entrata di Empoli Est resta chiusa verso Firenze fino al 7 dicembre. Sempre in Fipili rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la massima prudenza alla guida. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo soste irregolari in via Giovan Battista Pergolesi. Attenzione, si tratta di occupazione impropria di spazio invalidi. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.